Un babbista sono. Sei un babbista. Ci vuoi parlare anche di questo? Sì, tutti gli anni devo fare qualcosa di nuovo perché la gente me li sta chiedendo anche d'estate. Allora lavoro lì dietro, non me lo allunghi quello. Ci sono i remaggi in Vespa perché anche tempo fa, quando hai cominciato a fare i remaggi in moto, le amiche diciamo, ma no, sul cammello, le due mila anni che vanno sul cammello, adesso bisogna fare i moderni. Eh sì. Beffani da sport, pronta consiglia. Eh sì. Cerco sempre di regalare qualche sorriso alla gente. Sì.